volevo aggiungere anche zucchine ma non ho aggiunto perché mi piace tutto colorato allora questo così se vi piace potete non tagliare funghi perché già sono belli quando anche non sono tagliate però io voglio tagliare almeno a metà chi vuole imparare l'italiano allora con me non imparate mai però per ascoltare così per imparare ricette sì dai 5 bravo adesso andiamo a scaldare il foglio 200 gradi per 20 minuti prendiamo tre uova già abbiamo preso però prima devo mettere due uova per guardare com'è se va bene allora non devo mettere terzo se non va bene mettiamo il terzo allora mio marito che sempre rompe già da inizio sette anni fa ha iniziato no scusate nove anni fa allora questo saranno polpette 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 di tacchino mettiamo sale pepe un cucchiaio di farina qui abbiamo un cucchiaio di maionese prendiamo una cipolla facciamo mescolare secondo me basterà anche due uova mettiamo un po' di olio ecco le nostre polpette sono pronte anche la verdura è pronta eccomi eccomi proviamo yuhu bella morbida sono prontissime potete servire a tavolo io devo servire per mio cane non scherzo per me buono allora iscriviti e ci vediamo prossima volta dai salutiamo i nostri iscritti che ho per adesso solo uno ciao